Conosci anche tu quei cerchi neri attorno agli occhi che ti guardano dallo specchio di prima mattina? Un sonno sano e ristoratore è diventato cosa rara per molti adulti. Che si tratti di neogenitori, di questioni di lavoro, di giovani o meno giovani, tutti noi le conosciamo. Le mancanza di sonno. Contiene il 36% di puro aloe vera gel che aiuta a ridurre visibilmente l'aspetto stanco degli occhi, le occhiaie e a minimizzare significativamente le rughe attorno agli occhi. Awakening Eye Cream contiene un collagene veramente unico. Dà leggero peso molecolare che supporta la formazione naturale del collagene e mira di trattare in modo ottimale la pelle. Un altro importante e straordinario ingrediente è il glicole butilenico. Riduce il gonfiore degli occhi e la comparsa delle occhiaie in meno di 15 giorni. L'ingradiente più innovativo di Awakening Eye Cream è probabilmente l'estratto di sericoltura con darutoside. È uno dei primi ingredienti del suo genere che ha dimostrato la proprietà di risollevare le palpebre cadenti. Questo permette di agire sia sulla palpebra che sulla pelle sensibile del contorno oculare e far nuovamente risplendere l'intera zona degli occhi. Awakening Eye Cream riduce l'aspetto delle rughe del contorno occhi rinforzando la struttura della superficie cutanea. Rafforzando la rete microvascolare riduce l'aspetto delle occhiaie. La pelle disidratata e gonfia intorno agli occhi è ormai un ricordo del passato. La zona degli occhi sarà più riposata, fresca e rigenerata. Come tutti i nostri prodotti per la cura della pelle abbiamo fatto testare Awakening Eye Cream dall'istituto indipendente Dermatest. La nostra delicata crema ha ricevuto il sigillo molto buono. Questo garantisce la migliore compatibilità cutanea e la massima qualità. Ti auguro molto divertimento e momenti raggianti con i prodotti Forever.